E' quasi un rito la liberazione a fine inverno delle trote sul piave. Un'azione che preannuncia l'apertura della pesca di domenica prossima, una passione che coinvolge oltre 23.000 trevigiani iscritti in una sessantina di associazioni. Un vero e proprio popolo delle lenze che ogni anno allarga i propri orizzonti con i giovani, molti dei quali bambini, educati al rispetto dell'ambiente e delle prede, proprio dalle scuole di pesca. Sì, le piavi, i corsi principali in cui si cimenteranno gli appassionati, ma non mancheranno pescatori anche negli altri fiumi della marca. Meschi, Olivenza, Musone e Zero solo per citarne alcuni. Un tempo la pesca era un modo per sopravvivere, oggi è un regolatore ambientale, ma soprattutto uno sport, dove in molti casi, con particolari ami, dopo la cattura la preda viene nuovamente rilasciata in acqua. Come sempre le acque sono suddivise in acque principali da salmonidi, per cui da trota. Dall'altra parte abbiamo giù di Treviso, della zona di Treviso, la maggior parte delle acque invece secondarie, dove si possono pescare carpe, lucci, tinche ed anguille. Continua il progetto Anguille, un progetto finanziato dalla comunità europea e dalla regione del Veneto per il ripopolamento di questo importante pesce nelle nostre acque. Ad oggi sono oltre 120 quintali di pesce immessi nelle nostre acque, per una passione costantemente in crescita. I pescatori in provincia di Treviso quest'anno sono anche in crescita, un più 10%, siamo arrivati a circa 24.000 pescatori presenti in provincia di Treviso, tra piccoli e grandi, e siamo anche una delle uniche province dove c'è proprio una crescita di pescatori rispetto a altre province che magari sono stazionari o sono in cale. Attività che in un momento di crisi e di verifica delle spese sono totalmente a carico degli appassionati. Anche quest'anno tutti i soldi che i pescatori pagano per la licenza di pesca saranno versati per immettere pesce nelle acque della provincia di Treviso.